Buongiorno, gentile cliente! La preghiamo di premere, il tasto 1 per una poesia d'amore, il tasto 2 per una poesia sui sogni, il tasto 3 per una poesia di lotta, il tasto 4 per una poesia di pace. Oppure resti in linea per parlare direttamente con un nostro poeta. Prema il tasto 9 per riascoltare questo messaggio o prema il tasto cancelletto per essere trasferito a un altro essere umano bisognoso di abbracci, conforto e poesia con cui uscire a chiacchierare, bere una birra e trascorrere una serata inallegata.